Benvenuto, ti propongo un itinerario di esplorazione della Pontificia Università Lateranense. È un viaggio virtuale dedicato a te che hai deciso di iscriverti a questa Università per la tua formazione umana e cristiana. La Pontificia Università Lateranense è a titolo speciale l'Università del Papa. Si trova nel territorio dello Stato-Città del Vaticano. Vi sono iscritti oltre 4.000 studenti che provengono da tutte le parti del mondo. È un'università veramente internazionale e cattolica che si propone di abilitare i suoi studenti a una visione profonda della realtà scientifica per gli studi che compiono, ma ugualmente segnata da una preparazione di testimonianza della fede cattolica. È importante per noi, qui a Laterano, offrire anche un profondo senso di appartenenza all'istituzione. Per questo è molto attiva la nostra associazione degli ex-alunni. C'è una realtà ricchissima di offerte, dalla biblioteca, all'aulamagna, alla sala informatica, alla segreteria didattica. Poi la libreria, il centro stampa, le attività sportive, il bar e la mesa. Altro punto di riferimento, la cappella, dove la messa viene celebrata due volte al giorno. Teologia, filosofia, giurisprudenza, diritto canonico. Queste le facoltà da scelgere, a cui si aggiungono l'istituto Utriusque Iuris e l'istituto pastorale. Imparare la vita, prepararsi ad affrontarla con la fede e con la ragione. Succede a Roma e succede anche negli oltre 40 istituti collegati nel mondo, con la Pontificia Università Lateranense.